Ciao, sono Mariella per Almex Channel da Washington DC negli Stati Uniti. Siamo arrivati ad ottobre ancora in quarantena qua negli Stati Uniti. La situazione diventa sempre più male e siamo molto lontani di ritornare alla normalità. Adesso ci sono tanti morti, ci sono più di 200.000 persone morti per questa situazione. Non sembra di fermarsi ancora, poi la gente continua a non credere niente, non portare delle mascherine, si sputano in faccia ancora, è pazzesco. Allora, intanto io vado sempre così coperta portando questa bella mascherina. Infatti quelle belle mascherine sono fatte a mano dalla mia sorella, sono fatte di cuoio. Sempre la porto con me quando andiamo a diversi posti come queste aziende vinicole e anche le birrerie. Una volta che siamo seduti al tavolo le possiamo togliere, ma se lasciamo il tavolo certamente dobbiamo indosarle. Allora, adesso siamo a Maryland dove si trova l'unica birreria a dire nel continente americano negli Stati Uniti. Allora, siamo qua presto nella mattina prima che arrivano la multitudine. Ma eccola qua, si viene su un'unica birreria di vine negli Stati Uniti e nel continente americano. Poi qui sono in una birreria nelle montagne dello Stato di Virginia e sono anche con una bella farfallina che è venuta a farmi un po' compagnia. Ma questo posto qua non è quello giusto in tempi di pandemia perché sono arrivate tante persone, poche di loro indossavano le mascherine e quindi me ne sono andata via abbastanza presto. E qua si trova la Harvest Gap Brewery nello Stato di Virginia è un'altra birreria che ho trovato pochi giorni fa. È un bel posto, bella campagna, ma anche molto frequentata da tante persone quindi è un po' pericoloso stare al di là per troppo tempo ma lo Stato di Virginia è uno di quegli posti stati negli Stati Uniti dove si vive la pandemia come se non succedesse niente. E così siamo ufficialmente in autunno, senza altro non c'è troppo da fare oltre che cercare qualche postino dove andare nella mattina presto il sabato o la domenica e anche si lavora da casa come sto adesso io. Per Almex Channel sono Maria Lamercado da Washington DC negli Stati Uniti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.